Un evento speciale quello che si sta svolgendo oggi pomeriggio sabato 26 ottobre qui al centro sportivo Il Gabbiano di Campo d'Arsego dove la nazionale italiana Sindaci incontra il mondo della televisione con la nazionale italiana Attori TV per un momento importante di solidarietà ma non soltanto anche per ricordare la tragica e prematura scomparsa di Sofia. Sindaco l'importante evento di oggi dedicato alla solidarietà importantissimo ma oggi è un momento anche per ricordare Sofia. Sì allora questo rientra nella festa dello sport che annualmente l'amministrazione programma naturalmente l'abbiamo rinviata per il motivo che tutti conosciamo un motivo tristissimo che ha sconvolto la nostra comunità quindi abbiamo voluto comunque riproporla e legarla anche ad un ricordo. Importante anche ricordare quanto questi eventi uniscano una comunità ma anche personaggi magari del mondo della TV che nulla hanno a che fare con il territorio che però si impegnano per il territorio. Beh questa è la squadra, la nazionale calcio sindaci e la nazionale calcio tv fanno sempre attività di questo genere che riguardano la solidarietà abbiamo approfittato dell'amicizia che ci lega a Mirko Patron che è presidente dell'associazione nazionale sindaci della nazionale sindaci e quindi abbiamo voluto fare questa cosa poi naturalmente l'avevamo programmata con congruo anticipo e purtroppo quello che è successo insomma ce l'ha fatta ribiare però è bello e bello soprattutto tutte le persone che si sono interessate a questo evento, alle aziende che hanno donato e come naturalmente è lo slogan di questa iniziativa il ricavato sarà dato alle nostre scuole dell'infanzia e alla città della speranza. Come sta andando? Chi sta vincendo? Siamo due a due ed è dura soprattutto per il sottoscritto che non è allenato. Chi vincerà? Ma vincerà il migliore o forse ci sarà un pareggio? Vedremo. Vedremo, grazie a voi. Perché è importante organizzare eventi come questo? Beh è la mission che abbiamo noi come nazionale italiana sindaci è da 23 anni che fatichiamo solo partite in beneficenza e il nostro scopo è naturalmente di donare a chi ha bisogno e di dare una mano a chi ha bisogno. Anche la giornata di oggi parte del ricavato di andare alla città della speranza che lo conosciamo molto bene, è il nostro fiore all'occhello del volontariato dunque ha bisogno di fondi. E dopo abbiamo anche problemi all'interno del territorio, del campo d'Arsego perché non abbiamo nessuna scuola materna pubblica. Abbiamo tutte le scuole materne che sono parrocchiali e come sapete il calo demografico ha portato a tanti bambini che mancano all'interno allora aiutiamo le parrocchie che non ci rimettano naturalmente e che siano un po' più tranquilli. È bello vedere come ci siano anche tanti personaggi anche del mondo della televisione, del mondo della politica che si riuniscono per un fine così importante. Beh guarda io penso che su queste cose quando cambia qualcuno c'è sempre la massima disponibilità di tutti, dunque noi abbiamo un territorio che è molto disponibile con tutti al di là di qualsiasi tipo di iniziativa. Noi abbiamo anche tante aziende che ci hanno voluto bene perché effettivamente abbiamo raccaldato più di 30.000 euro, non è facile in questi momenti per le aziende e andremo a dare la gioia ai bambini della scuola d'infanzia e anche ai bambini della città della Speranza che fanno un percorso per la ricerca che è fondamentale per la crescita di nuovi farmaci che ci aiutano a guarire e noi siamo veramente contenti, lo facciamo con il cuore. Moreno Morello allora una partita del cuore dedicata alla solidarietà ma come si stanno compiando? Non si comporta bene perché è stato subito segnata una rete, quindi bravi, rimanete così, rimaniamo in diretta adesso per due ore, rimanete lì perché abbiamo visto che facilita il gol. Eh ma noi non ci muoviamo di qui anche perché con la, insomma diciamo così, con quello che c'è per terra oggi. C'è terreno un po' pesante, l'operatore non può scendere sulle calzature della giornalista perché vedreste delle cose... Sarà difficile staccarci. Un servizio infangato, un servizio infangato sarebbe. Ma Moreno Morello, ma insomma come si stanno comportando una partita del cuore per la solidarietà ma sono bravi, c'è fair play? Si affrontano a viso aperto, il fair play c'è, la sportività c'è però stanno veramente giocando all'ultimo pallone, ci stanno dando dentro, stanno facendo un bello spettacolo anche dal punto di vista dello sport. Previsioni? Al momento siamo in vantaggio, noi siamo, per me finisce in pareggio, le squadre si stanno equivalendo dal punto di vista, poi da quando sei arrivata a te c'è stato un agonismo ancora, un'impennata di agonismo incredibile e quindi rimani qui con noi. Perché Telecittà porta fortuna. Sì, senza dubbio.